Buongiorno, buongiorno a tutti, speriamo che sia un buon anno, oggi vi parlerò di Vincent Van Gogh, pensavo di fare questa chiacchierata su Vincent Van Gogh in due incontri, in due cosa si toglie dalla vita di Van Gogh, cosa si toglie, è difficile veramente difficile, quindi lo farò in tre volte, la prima, la sua nascita, fino a quando va a Parigi, la seconda, la seconda ci concentreremo su Parigi e la terza quando lui andrà in Provenza, andrà al sud della Francia, Van Gogh attraverso i suoi dipinti vuole raccontarci il suo dolore, in ogni dipinto Van Gogh ci racconta la sua vita, i suoi dipinti sono pagine del diario, sono pagine di un diario, sentiva anche le stagioni, l'estate, l'autunno e soprattutto ogni dipinto richiama il suo diario, il suo diario era le lettere ateo, quindi lui attraverso il colore anima le cose, troviamo i suoi sentimenti, ma anche tanta, tantissima solitudine all'interno di Van Gogh, tutti noi davanti al sud del pinto cerchiamo di capire cosa c'era all'interno di lui, ci sentiamo dei psicanalisti, però Van Gogh davanti al sud dipinto proprio le sue pennellate ci agitano, siamo come un topolino davanti al sud dipinto quando vede il formaggio all'interno di una trappola, il formaggio è il colore e la trappola è proprio il quadro di Van Gogh, quindi ci sentiamo anche protagonisti all'interno, ma perché amiamo tutti Van Gogh, perché conosciamo tutti Van Gogh? Perché dipingeva cose semplicissime, un paio di scarpe, un nido di uccelli, la sua pittura era fanciullesca si può dire, ma poi caricava con intenzione emotiva tutte le sue opere, quindi ci coinvolge col suo colore. La sua pittura quindi è tutta l'espressione, è il padre spirituale dell'espressionismo, è proprio una concezione storica francese e tedesca, è l'arte che fa parlare dell'interno, è un moto dell'anima che viene all'interna mente dell'artista e quindi attraverso le sue immagini noi siamo catturati da Van Gogh. Pensate che un dipinto di Van Gogh è difficilissimo da restaurare, perché come si fa? Aggiungere dei colori, ma soprattutto il dipinto di Van Gogh è difficile da falsificare, è quasi impossibile, perché lui adoperava sempre, non puliva mai il pennello, era una delle tante cause delle liti di Van Gogh ad Arles con Gauguet, quindi troviamo all'interno milioni di pigmenti, questa è la peculiarità soprattutto sui dipinti di Van Gogh. Il nostro Van Gogh nasse nel Brabante olandese, nasse a Zundert il 30 marzo del 1853, queste sono le uniche tre foto di Van Gogh, non si è mai fatto fotografare e queste sono tre foto di Van Gogh, eccole qui, questa è la canonica che è stata buttata giù, pensate nel 1903, perché Van Gogh era ancora semi sconosciuto a Grotte Zundert e così era, è nato proprio in questa casa, in questa canonica perché il papà era pastore, pastore protestante ed era soprattutto una tradizione il nome Vincent nei Van Gogh e avere un componente pastore protestante. Eccole qui, vediamo tutta la sua famiglia, Van Gogh è il primo genito e Van Gogh, pensate, nasse lo stesso giorno che un anno prima, il 30 marzo, l'anno prima era morto suo fratello e lui i rapporti li avrà soprattutto anche con Anna, la sorella Anna, ma litigaranno a Londra, ma si scambia un rapporto epistolare, soprattutto col fratello, guardate che le lettere di Van Gogh mandate a Theo, sono veramente un capitale letterario, ecco, più di 600 lettere, qualcuno dice 700, 800 eccetera, però ha questo rapporto con Theo e con la sorella Will. Entra in collegio il primo ottobre del 1864, in questo collegio, lo vediamo, poi lo vediamo assieme ai compagni di collegio, ma a 16 anni deve uscire e deve uscire per scarso rendimento. Entra nella casa d'arte Gupil, che all'interno c'era anche uno suo zio di nome Cente e prima va a Laia, poi va a Londra e a Londra abbiamo la sua prima delusione, perché lui si innamora di Eugénie, che è una ragazza la quale si rifiuta un rapporto con Van Gogh e quindi lui entra in depressione, entra in depressione, ma a Londra studierà moltissimo William Shakespeare e anche Charles Dickens, affascinato da Charles Dickens soprattutto in David Copperfield e Oliver Twist. Questi ragazzi, vediamo, la miseria di Londra, la miseria di Ghetti di Londra, dei luoghi più poveri di Londra, vedete? E soprattutto lui va alla National Gallery e si innamora di di questi due pittori, Constable, il quale è il precursore dei pittori di Barbizon, che vedremo dopo, e di Turner, che lo vediamo in questa abituta di Venezia, perché Turner era profondamente innamorato, farà decine e decine di dipinti sulla città di Venezia. Studia soprattutto la Bibbia, pensate che ritengo che Van Gogh in arte sia uno dei pittori più colti, a livello Michelangelo, a livello Mantegna, perché ci sono pittori che non hanno nessuna cultura, non deve fare i nomi, non hanno poca cultura, ma pittori di grande valore che hanno poca cultura e questi artisti, Michelangelo, Mantegna e Van Gogh avevano una grande cultura, pensate che Van Gogh traduce la Bibbia in tre lingue. Quindi ritorna a Parigi nel 1875, sempre questa casa d'aste Goupil e attraverso il lavoro all'interno di questa casa d'aste arriva a conoscenza e ama i pittori della scuola di Barbisson. La scuola di Barbisson era un paesino, eccolo qui, questo è il luogo dove si trovavano la foresta di Fontainebleau e lui arriva alla conoscenza della pittura di Corot, della pittura di Dubigny e della pittura soprattutto di Mie o Milet e questi sono i primi artisti che lui ama. Ma soprattutto la scuola di Barbisson vuole allontanarsi da quella pittura tradizionale, storica, religiosa e viene coinvolto anche Claude Monet, eccolo qui, lo vediamo, Claude Monet viene coinvolto, questo invece è il pittore Rousseau che non è il luoganiere, questo è Theodore Rousseau, eccolo qui, Monet va anche lui nella foresta di Fontainebleau, siamo nel 1865 e viene anche lui, i primi momenti lui guarda i ragazzi della scuola di Barbisson, poi vuole fare il pastore protestante, va nel Borinaes non aveva nessun attestato perché anche lì non riesce a concludere le sue cose, ma la scuola evangelica di Bruxelles che lavora per questa scuola per sei mesi e va nel Borinaes, siamo nel Belgio, la zona poverissima, eccola qui e qui soprattutto studia San Francesco, guardate che la cultura di Van Gogh è legatissima ai suoi dipinti, è un grande teologo, i suoi dipinti parlano della redenzione, parlano di teologia, lui studia soprattutto San Francesco, Tommaso da Campis, il suo libro Imitazione di Cristo e pensate Afflitti Maglietti diceva sempre secondo le parole di San Paolo, conosceva a memoria parecchie lettere di San Paolo, tantissime e vediamo uno dei suoi ultimi dipinti, Buon Samaritano e lui si sente sempre un buon samaritano, pensate che nella canona canonica, nel luogo che gli avevano destinato come predicatore lui regala ai minatori, regala i mobili, addirittura di suoi vestiti fa delle fasce per poter curare le ferite, donna tutto, dorme per terra, mangia pane d'acqua, capite? Quindi come San Francesco, eccoli qui, disegna ad acquarello queste donne distrutte dalla fatica, eccola qui, agosto del 1880, d'agosto a settembre, manda una delle sue famose lettere al fratello Teo e dice che vuole diventare pittore, vuole interessarsi della pittura e il fratello Teo gli manda delle riproduzioni di Milet e quindi entra nell'Accademia delle Belle Arti a Bruxelles, quindi lui voleva veramente conoscere tutta la tecnica, pensate che addirittura, ma lo vedremo la prossima volta, si costruisse personalmente, si costruisse una specie di macchinario, chiamiamolo così, per conoscere e creare la prospettiva e a Bruxelles conosce Anton Rappard, vedete, eccolo qui, quindi va ad Eten, che è un paesino vicino a lui, vicino, siamo nella zona di Eindhoven, a 16 chilometri da Grotte Zunder, ecco qui dipinge, disegna questo contadino, ma guardate, si sa anche il nome del contadino, ma è lui che lo dice di mettersi in posa così, non è che lui scatta una fotografia attraverso il disegno, quindi va in queste case a vedere la solitudine degli anziani che non hanno più la forza di lavorare, che quindi si sentono inutili, si sentono completamente inutili, ecco qui anche questa signora anziana, vedete anche questo contadino, si sa il nome anche di questo contadino, in cui lui lo disegna mentre sta lavorando, eccoli qui, vedete, quindi va Eten, perché era stato cacciato dalla scuola evangelica dal Borinas, era stato cacciato per la semplice ragione che i responsabili di questa scuola evangelica dicevano che uno non può vivere in quelle condizioni lì, capite, ma lui si rifaceva soprattutto alla scuola di Groninga o Groninge, non solo la teologia, ma di aiutare i poveri, evidentemente alla scuola evangelica non dava bene che il nostro Van Gogh aiutasse così i minatori tanto da spogliarsi di tutto. Poi si innamora della cugina, della cugina detta chi e la quale, ok, con la quale, vediamo qui quel figlio, era vedova e lui si innamora e viene rifiutato, anzi c'è una grossa lite con quei genitori della sua cugina, addirittura pensate che lui si brucia la mano sinistra, per dimostrare il suo amore si brucia la mano sinistra. Andiamo avanti, quindi va ad Anton Mauve, Mauve in francese, Mauve in orlandese, vedete, molto difficile perché tanti testi eccetera cambiano completamente gli accenti eccetera, quindi noi rimaniamo così, Anton Mauve, il quale gli insegna, cerca soprattutto di insegnarli la tecnica del lavoro, l'incisione eccetera e gli regala questo torso del bel vedere, naturalmente una coppia che è una statuaria antica cui Michelangelo era legatissimo, quindi vediamo che Anton Mauve conosceva anche Michelangelo. Inizia proprio a scuola di Anton Mauve la sua pittura d'olio, vediamo, pittura povera sotto il profilo dell'immagine, eccolo qui, vedete, e poi va nella spiaggia dell'Aia, questa città olandese, vediamo, e lui non accetta assolutamente di dipingere un paesaggio o una spiaggia o il mare senza la presenza umana. Eccolo qui, questa ragazza nel bosco, vedete, e conosce, Allaia conosce questa ragazza, la quale è una prostituta, non solo, lei aveva una figlia ed era anche incinta e il nostro Van Gogh, immaginate, rompe definitivamente con la famiglia, ma anche col fratello stesso e lui vuole soccorrere, lui vuole soccorrere e si sente veramente un buon samaritano. Eccolo qui, vedete, pensate che aveva anche il vaiolo questa ragazza, però lui non vende nulla, non riesce, vedete che sotto c'è scritto che non capisce come una donna sia così sola, e poi in grande vediamo scusa, e purtroppo non lavorando lei riprende il suo lavoro, quindi la lascia, la abbandona. Quindi si sposta nel Drentè, va in mezzo a queste campagne, infinite campagne, disegna, dipinge le case di questi contadini, eccoli qui, veramente stanchi del lavoro, eccoli qui, vediamo questi suoi, sempre questa pittura tenebrosa, dobbiamo aspettare un bel po', prima non molto però, pensate che in sette anni fa oltre mille dipinti, se noi pensiamo che nei cataloghi, nei cataloghi arriviamo a 900 eccetera, ma si può benissimo pensare che ne abbia fatto più di mille, ci sono alcuni aneddoti di persone che hanno ritrovato un dipinto di Van Gogh, anzi vi racconto questo, a Parigi un clochard, un clochard ha trovato un dipinto fuori, per strada, vicino a una piccola discarica, e questo clochard è una persona molto colta, e la porta a stimare, e vedono che è un Van Gogh, vedono che è un Van Gogh e gli offrono veramente una cifra enorme, si può parlare di 20 milioni di Euro adesso, ma allora non c'erano i franchi, e saltano fuori le proprietarie, ed è un convento di suore, le quali una suora aveva buttato via il dipinto, e quindi vogliono che rimpossessarsi del dipinto, ma un giudice dice, giusto, è stata la negligenza di una suora, non è colpa di tutti, però 10 milioni al clochard e 10 milioni alle suore, quindi pensate non solo, era considerato durante il nazismo arte deviata, sono stati distrutti tanti Van Gogh, sono stati distrutti oppure nascosti, quindi immagino che in giro ci siano un bel po' ancora di dipinti di questo gigante. Vediamo, lui dipinge il senso della famiglia, lui era legatissimo alla famiglia, legatissimo a Will, la sorella Will, pensate quando lui è in ospedale che si era tagliato l'orecchio, ma non la retta la sorella Will, la quale le ricorda il giardino, i nidi degli uccelli, quindi aveva il senso della famiglia, lui amava il papà e la mamma, però era un figlio che creava problemi, quindi va nella canonica, quindi dietro la canonica c'era il suo studio, a Nuenen, siamo nel novembre del 1885, e questo è il suo primo pensiero, in cui dice che la musica e la pittura sono insimbiosi, i toni di colore sono come le note della musica, e quindi studia anche Richard Wagner. Andiamo avanti, ecco qui dipinge la chiesetta, che non è la chiesa di Nuenen, è la chiesa del cimitero dei contadini, vedete, eccola qui, con la neve, e qui la buttano giù, e vedete che c'è proprio una premonizione a quello che ci porterà al campo di grano, con i corvi, una delle ultime, ultimissime opere di Vincent Van Gogh. Ma poi soprattutto, la pensava come l'inglese John Ruskin, grande, grande critico d'arte, il quale dicevano che l'uomo, l'uomo quando non potrà più lavorare con le mani, non sarà più un uomo, e quindi va a vedere questi tessitori. Questa zona era famosissima per la seta, lui addirittura dice che facevano parte dell'ingranaggio, e li pagava, guardate che lui li pagava questi signori, anzi guadagnavano di più sui soldi che gli davano Van Gogh che non col suo lavoro. E chi dava i soldi Van Gogh? Era il fratello. È stato considerato che il 20-25% del guadagno, che guadagnava molto bene il suo fratello, Theo gli mandava periodicamente dei soldi. Eccoli qui, marzo 1885, muore il papà, e questo vediamo la Bibbia che fa parte del papà, è la giornata di vivere, di Emisola, e vediamo anche un contrasto di colore, lo vedete, il contrasto di colore, là siamo ancora sul marrone, sul colore terra, e qui siamo in un colore più vivo, perché il fratello gli aveva detto di portarsi sulla pittura tonale, sulla pittura più chiara. E proprio nel Mangiatori di patate, vediamo qui Mangiatori di patate, il nostro Van Gogh è la summa del suo periodo, vedete, è la summa del suo periodo, anzi lui dice che di tutti i lavori lo considera il migliore, e dice che l'unica opera degna di essere presentata al pubblico, resterà l'unica opera su cui Van Gogh farà una grossa pressione sul fratello, sul fratello Theo, e qui abbiamo i cinque Mangiatori di patate, che vediamo che siedono in una rosa tavola, e vediamo, ci sono anche le tre età, vediamo la ragazzina, vediamo sulla sinistra la coppia più giovane, e sulla destra la coppia più anziana, vedete, vediamo che, eccola qui, vediamo, lui aveva già fatto degli altri schizzi, disegni, ma questa è la soluzione, l'ultima soluzione, vedete, eccola qui, e manda una lettera a Theo, manda una lettera a Theo, dicendo che sono loro che sono degni di mangiare quello che hanno raccolto, eccola qui, e soprattutto al fratello Theo manda la tavolozza quali colori ha adoperato all'interno, eccola qui, vedete come sono i disegni, ma proprio le mani distrutte da raccogliere, da entrare nella terra bagnata magari per raccogliere le patate, e vediamo questa ragazza che guarda, questa signora, che guarda il marito, come per chiedere il permesso se può servirsi, quindi siamo veramente in una condizione ancora arcaica, vedete, e sulla destra vediamo che è versa il caffè, la cena è patate, caffè e cicoria, andiamo avanti, la luce, la luce viene dalla lampada, la luce viene dalla lampada, vedete, è proprio un dipinto crostofobico, vedete, proprio si sente veramente una grande oppressione all'interno, ma la gente è contenta, la gente è felice, la gente è felice di essere arrivati alla sera, ma la luce non viene solo dalla lampada, viene anche dal piatto di patate, come crea il nostro Van Gogh, lo vedete? eccole qui, gli occhi, diceva Van Gogh, sono le specchie dell'anima, e gli occhi di questi contadini sono felici dopo una giornata di lavoro, e hanno ancora i berretti sporchi di terra, eccolo qui, la ragazzina, che ha due peculiarità, la prima di unire i due gruppi, e la seconda di rappresentare quello che non deve essere, quando sarà grande, è perché è il destino, ma il destino senz'altro la porterà a raccogliere le patate anche lei, sembra che sia appena seduta, e abbia le mani giunte, vedete? Ma soprattutto, questa bambina ha il futuro, non incerto, il futuro sicuro, della sua condizione, fa attraverso il fumo delle patate, mette un'aureola, e si richiama a quella aureola, vedete che non è un'aureola ben definita in questa seconda cena di Emmaus, di Rembrandt, che lui amava moltissimo Rembrandt, amava moltissimo la capacità della luce del nostro pittore olandese Rembrandt, questo grande, grande pittore, e quindi crea proprio una reola di santità, vedete? Soprattutto si sono seduti alla luce del crepuscolo, lo vediamo nella finestra in fondo, nell'altra finestra vediamo hanno messo una tenda, eccolo qui, e poi per dare la sacralità alla cena vediamo una stampa di un crocifisso, e poi vediamo un orologio, vediamo un orologio, ma guardiamo la dolcezza la dolcezza del contadino che offre le patate, si guarda la dolcezza soprattutto negli occhi, non quanto ha in mano, ma negli occhi la dolcezza che guarda, senz'altro è la sua moglie, senz'altro sono i nonni della bambina, vedete, e i genitori, e i genitori della coppia che vediamo a sinistra, eccolo qui, vediamo, Anton Rappard critica, critica aspramente, e Van Gogh romperà l'amicizia con Anton Rappard, definendo un dipinto veramente fuori dal tempo, scuro, e peccato perché Van Gogh lo definiva veramente la summa dei suoi lavori, pensate che spedisse il dipinto e una cornice d'oro, quindi proprio per illuminare questi contadini, lo spedisse a Parigi, al fratello Teo, ma naturalmente la cornice è andata persa, non è questa cornice, e lo manda al fratello Teo, e questi mercanti, questi mercanti, lo offre due mercanti, non lo vogliono assolutamente comprare, e dicono che è troppo scuro, ma io non sono d'accordo solo sul fatto che sia scuro, è che era di moda, ancora da un bel po' di tempo in Francia, dipingere i contadini, ma non così distrutti nel fisico, così distrutti nel volto e nelle mani, vedete, altri pittori, questo è Israele, il quale dipinge questa cena, è una cena in cui non si vede la sofferenza, la tensione, vedete, e soprattutto vediamo che quella è la casa dei poveri contadini, e non si può dipingere una casa così malmessa, ecco, perché è una brutta parola, poverini, così malmessa, no, bisogna dipingere come i pittori che erano in voga, allora bisogna dipingere una casa normale, il lavoro del contadino è un lavoro difficile, duro, ma non si può ostentare le difficoltà così, vedete, lo stesso anche qui, Van Gogh mostra questi zappatori, e Milie stesso, vediamo che queste ragazze, insomma, è una pittura romantica, rispetto alla pittura di Van Gogh, è una pittura romantica, vedete, guardiamo bene, nel colore stesso, e nella, diciamo, nel verismo, ecco, nel verismo, allora faccio un confronto, nessuno, nessun parigino, anche chi comparava i dipinti, hanno persone che abbienti, nessun parigino si sarebbe messo in casa, un dipinto così, tenebroso, sotto il lato della difficoltà di questi contadini, e come nel Rinascimento, ma sempre poi, nessuno si sarebbe messo in casa, la Maddalena di Donatello, Tiziano e altri pittori, facevano la Maddalena, che non è tornata dal deserto, che è rimasta via 40 giorni, ma qui sembra che sia tornata da un beauty farm, la vedete, questi volevano mettersi in casa, ecco la vera ragione, è un'idea personale, ma la vera ragione, non solo che il dipinto magari è scuro, ma la vera ragione è che uno non voleva mettersi in casa un dipinto che gli desse depressione, ecco, troviamo la parola esatta, eccola qui. Purtroppo il nostro Van Gogh, il prete del paese, di Nuenen, proibisce ai contadini di farsi riprendere, per la ragione che sembra che questa ragazza sia rimasta incinta proprio di Van Gogh, e quindi, ma non solo, i contadini stessi lo prendevano in giro, quando lui andava per le case, eccetera, vedevano questo pittore, questa specie di Ligabue italiano, ecco, se c'è un pittore da cui accumulare il destino, ma accumulare anche, soprattutto, il rapporto con la gente, è il nostro Antonio Ligabue, quindi lui deve dipingere i zoccoli, le scarpe, eccetera, vedete, i nidi di uccelli, quindi parte, va all'Accademia d'Arte Reale di Anversa, dove studia, per un paio di mesi, per un paio di mesi, e ad Anversa dipinge, fa questi due dipinti, eccoli qui, vedete il porto di Anversa, e va a Parigi, siamo nel 1886, con il fratello Theo, che è a Parigi, che lavora alla Goupil, ma nel frattempo era cambiata, si diventerà Baladò, hanno l'appuntamento al Louvre, ecco, quindi lui arriverà in una città, dove ci sono tutti gli ismi, c'è l'impressionismo, c'è il simbolismo, il crozonismo, c'è tutti gli ismi di allora erano lì, e lui si, e abbiamo anche il divisionismo, o il puntinismo, e lui entra in questa città, Parigi, e prende ad esempio tutti questi movimenti, c'era anche il giapponesismo, e io ritengo che oltre ad avere inventato, inventato, creato la pittura impressionista, inventi anche la pittura dell'ecletismo, perché lui porterà tutti questi aspetti pittorici, vi ringrazio tanto, e ci sentiamo mercoledì prossimo, grazie mille a tutte le università, con cui ho l'onore di lavorare, ripeto, con tanti collaboratori, che si danno veramente da fare, e saluto tutti gli utenti, delle università del tempo libero, dove appunto ho l'onore di collaborare, e speriamo in bene, grazie mille.